Interviene Mino Borracino, Assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Vertenza Cemitali di Taranto firmato l'accordo per la proroga della Cassa Integrazione fino al dicembre 2019. Si è svolto presso la sede dell'Assessorato al Lavoro della Regione Puglia un importante incontro coordinato dal Presidente della Task Force per l'Occupazione e Crisi Aziendali, Leo Caroli, al quale, afferma Borracino, preso parte della mia qualità di Assessore allo sviluppo economico e rappresentante istituzionale del territorio ionico per affrontare la questione relativa al rischio licenziamento per 67 dipendenti dello stabilimento di Taranto della Cemitali SPA, già Cementir Italia SPA. Purtroppo questa vicenda si è venuta a creare dal momento che lo stabilimento Cemitali di Taranto ha sospeso le sue attività a causa della più generale crisi dell'ILVA per cui l'azienda lavorava come fornitrice e così lo scorso 10 ottobre sono state avviate le procedure per il licenziamento collettivo di tutto l'organico del sito, pari appunto a 67 lavoratori. All'esito dell'incontro svolto si è stato sottoscritto da tutte le parti intervenute un verbale nel quale si è convenuto di avviare la procedura prevista per ottenere l'estensione sino al 21 dicembre 2019 della Cassa Integrazione straordinaria per tutti i dipendenti coinvolti. Contestualmente sarà attivato un percorso di politiche attive del lavoro finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori con interventi formativi volti a favorire l'aggiornamento professionale. La Cemitali quindi si è impegnata a revocare la procedura di licenziamento collettivo. La Regione Puglia ed io personalmente conclude Borracino, continueremo a seguire con grande attenzione questa vicenda e ringrazio soprattutto il Presidente della Task Force Occupazione Leo Caroli per il ruolo di coordinamento e di regia che ha svolto per raggiungere l'importante risultato di oggi.